benvenuti oggi non vedo l'ora di fare questo fartlek speciale che ho composto per voi che prevede due fasi di lavoro crescente uno flat e uno mountain e si vola 5, 6, 7, up piccolo aggiungo qua andiamo sì tecnica stand in mountain resistance in crisi e cadence in crisi andiamo a cercare l'85% oltre settimana e 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